Amici ma soprattutto nemici bianconeri buonasera buonasera ragazzi Allegri Allegri contro Ulaovic Lo sapevo che sarebbe arrivato a questo punto Non avevo dubbi lo sapevo Purtroppo era questione di tempo Che purtroppo con questo allenatore Il signor Tevez Tanto per dirvi bene uno Lo etichettò con Tanto per dirvi Tevez Quello che tutto il popolo viventino stra adora Quindi partiamo da questa cacola Che già soltanto la parola ti fa capire che tipo di personaggio è Comunque L'attacco purtroppo della Venso Tutti gli attaccanti della Venso di Bala, Morata e anche Vlaovic A questo punto tutto sembrano tranne gli attaccanti Tutto Ha ragione da Chinardi Ha ragione da Chinardi Purtroppo Purtroppo il meccanismo I meccanismi di questa allenatore Purtroppo non fanno sì Che questa attaccante si possa realizzare Si possa esprimere al meglio Come lo faceva Alla Fiorentina E questo c'è poco da dire C'è poco da dire Poi ieri che si è vinto Si è vinto grande Grazie a una carambola Una carambola di Di Bonucci Che si è fatto Si sono fatti i punti Ok benissimo Ma il camminato vuole sapere meglio di me È mediocre 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 E questo lo si sa Quindi è normale Perché l'anno viene Ha una rosa forte Ha una rosa forte Ha una rosa forte E lo sottoscrivo E ve lo dico anche Perché io Nella partita contro l'Inter Di Coppa Italia Non ho paura Nella maniera più assoluta Perché se l'avranno Decide di giocare a calcio Finalmente Si scrolla Si scrolla Di dosso I meccanismi Di questo Pseudo allenatore La partita la fa E lo si è visto Anche Anche Contro l'Inter In campionato Purtroppo siamo sempre Là che in attacco Purtroppo c'è questo meccanismo Che purtroppo Non funziona Non funziona Siamo pochi abituati Ad attaccare Siamo pochi abituati Ma la cosa che mi fa rabbia La cosa che mi fa rabbia È che il signore Allegri Il signore Allegri Non accetta Neanche questa critica Non l'accetta La rigetta La rifiuta Perché è arrogante Perché è preso dal suo presidente Perché è arrogante Quindi lui cosa dice Eh Blauic purtroppo Vuole strafare Vuole strafare Quindi sbaglia per questo Non è più alla Fiorentina Questo poi Della maglia pesante Mi sa di una Mi fa salire la carogna Veramente Mi fa salire la carogna La carogna Mi fa salire Se per certi giocatori La maglia pesa Pesa anche per certi allenatori Caro Caro Allegri Perché tu Se tu non hai una squadra Già formata Fatta Disegnata Pronta Che va Non sei nessuno E quest'anno L'abbiamo visto Perché poi qualcuno Mi deve spiegare Come se avesse due anni Perché questo allenatore È stato esonerato nel 2018 Qualcuno me lo deve spiegare Come se avesse due anni Quindi un motivo ci sarà Se questa squadra Questo è stato È stato esonerato Perché si giocava di merda Si giocava di merda Perché l'Ajax ci ha palleggiato in faccia L'abbiamo ripreso I temi con patate I temi con patate Però ripeto Vlauvici È un progetto E io lo ripetisco sempre Gli allenatori che Depotenziano Depotenziano I giocatori Sono dannosi Per le casse Della squadra Questo ve lo ribadisco Al cento per cento Io Ormai ripeto Lo si vince Vlauvici Quando esce dal campo Quando ormai Ieri è stato veramente Con una fascia triste Triste Perché non è messo Nelle condizioni giuste Non è messo Nelle condizioni giuste Perché lui Lui vuole Lui predeligi Soltanto certi giocatori Che come a Morata Che vedo Ormai a Morata Toglietevi il numero 9 A Morata Glielo dovete togliere A Morata il numero 9 Non ha senso Tenere a Morata il numero 9 Non ha nessun tipo di sedi Perché lui ormai È un minuto di chassetta Come mangi Qualmelo quasi Che Di lottura Capitolo arbitri Capitolo arbitri Voi lo sapete Io Sulla Mala fede Non la Non la Non la Non ci credo Anche perché Se uno crede alla mala fede Dovrebbe chiudere Baracca e Borottina Però Però Sulla Sulla mediocrità Sulla Scarsezza Di questi Di questi arbitri C'è poco C'è poco da dire C'è poco da dire Sono scarsi 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 E il VAR Il VAR Purtroppo Ha accentuato Questa scarsezza Perché ripeto Un conto deve essere scarsi Sul campo Nel senso Live Quindi Non accorgersi Di certe situazioni Ma Col VAR Col VAR Col VAR Veramente Stai creando Un clima Ancora più 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 incandescente Più incandescente È vero Perché non è che tutti Poi ragionano come me Non è che poi ragionano come me Poi incominciano Poi a pensare male Perché ripeto Ah il VAR Col VAR Certe cose Le dovresti Vedere Capisci Ora Sono stati sospesi Questi arbitri Di Spezia Di Spezia Lazio Sospesi Che significa Che Quindi Quella partita È stata Diciamo Non correttamente Eseguita Quindi Cosa bisogna fare Ora Cosa bisogna Mettiamo caso Che la Spezia Per questa partita Vai in B Un danno economico Un danno economico Per la società Cosa succede Se tu già me lo sospendi Quindi prendi Un procedimento Per questi arbitri Quindi C'è Un qualcosa Di certificato Che tu già Hai Quindi Ripetiamo Questa partita A questo punto La dobbiamo ripetere E ripetiamo Questa partita Perché tu stai Certificando Che lì c'è stato Un errore Quello non è Un risultato A questo punto Da omologare Io non sto parlando Di malafede Sto parlando Di scarsezza Degli arbitri Però se tu mi stai Certificando Che lì C'è un danno C'è un danno Quindi tu mi stai Mi stai mettendo da parte Gli arbitri Me li stai ponendo Tu stai certificando Che c'è un danno Non fanno Ma è rifatta La partita Ma è rifatta Ma è rifatta Quindi qui ci vuole Ora veramente Un Una rivoluzione Totale 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 Non ci affidiamo Agli arbitri esteri Non lo so Perché qui Non si sta capendo Più niente Fin quando l'occhio È in live Io lo posso accettare Ma quando ci sono Certi errori Anche ieri Ragazzi Zego Zego non è che è stato Toccato ieri In live con i ragazzi Bene o male Ce ne sono Ce ne siamo accosti subito Che non è stato toccato Che viene Che praticamente Vola Perdonate Belotti Belotti Che viene toccato Non fa nessuna Qui c'è un po' Di maicello Io ma la fede Non la voglio Non ci voglio credere Non ci voglio credere Però Il tifoso Il tifoso Incomincia a incazzarsi Incazzarsi di brutto Gli errori tecnici Dei giocatori Sono un altro discorso Il portiere Il rinvio del portiere Sbaglia il portiere del Napoli Sbaglia il portiere della Fiorentina Queste sono un'altra cosa Certe cose Dove veramente sono lampanti Allora qua O si prende una decisione drastica O veramente Che se no Crolla il castello Ma se ci ingazzate Fino alla fine E for sale E for sale E for sale